Si intitola Briviti questo brano di Mahmoud De Blanco che ha vinto il festival di Sanremo 2022, ieri 5 febbraio. Un pezzo epico, straordinario, travolgente e simpatico, nonché gradevole. Forse un po' a mio potesto parere, secondo la mia opinione, un po' diciamo così poco ritmato, troppe parole, però nonostante tutto un pezzo pienamente orecchiabile, pienamente ascoltabile, pienamente udibile. Una melodia piacevole, un pezzo epico che già dall'inizio ci aveva fatto parlare di sé grazie al fatto che Mahmoud e Blanco erano i favoriti. Pronostici pienamente rispettati, accolti come si deve al festival di Sanremo, vincono questo festival in maniera raggiante, determinata e soprattutto fragolosa. Per loro tante belle novità, per loro tanti applausi, per loro tanta stima e tanta tanta ammirazione dai più. Complenti a Blanco e Mahmoud per un pezzo simpatico, piacevole, frissantino, quanto basta, ma secondo me non troppo ritmato, poteva esserci più melodia. Detto ciò, grazie a tutti voi utenti di YouTube, buona domenica e al prossimo video.